Ok, e in 3, 2, 1 succederà una magia delle magie, vai Ari, la magia delle magie, eh sì l'ho regalato il gatto Shonda perché a me non me ne fregava più un cavolo, e vabbè così te lo fai Meganeon. Adesso sarà tanto sexy, eh adesso è più sexy.